E' sempre il reparto offensivo, la priorità della società Benchazzura. L'attacco totalmente da rifondare, al momento c'è solo Manuel Marras per Sottil. Bisogna aspettare ancora il placet della Fiorentina per il rinnovo del prestito. Niente riscatto per Santiago Bellini che torna al Wanderers. La classe 1996 è arrivata nel mercato di gennaio, in totale otto presenze, di cui una da titolare a Venezia. Il Delfino ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Molto complicata la pista Ciofani, il 34enne bomber marsicano è legato al Frosinone da altri due anni di contratto. Chiaro in merito il DS Repetto che ha usato un iperbole per rendere l'idea. Ciofani per il Frosinone è come Totti per la Roma. E' una bandiera. Credo che resterà in cioceria. Piace Enrico Brignola, classe 1999. Ala rapida e tecnica, ex Benevento di proprietà della Sassuolo ma destinato alla Genoa. Tutte le attenzioni sembrano puntate su Scamacca e Tuminello. Il primo classe 99 del Sassuolo, il secondo classe 98 dell'Atalanta. Da gennaio a giugno scorsi a Lecce promosso in Serie A. Entrambi nel mirino, in realtà già da tempo dei dirigenti biancozzurri. In uscita passi avanti col Parma per la cessione di Canuté. Cambia la formula, prestito con obbligo di riscatto. Il club ducale non è interessato Brugman. L'ennesima conferma arriva dal DS della società emiliana Daniele Faggiano che al nostro sito ha ribadito. Brugman è un ottimo calciatore ma non siamo interessati in quel ruolo cestulac sul quale abbiamo investito tanto. Juventus-Benevento incontro ieri per Leonardo Mancuso. 19 gol e 4 assist nell'ultimo campionato disputato col Pescara. Mancuso è controllato, lo ricordiamo, anche dal Pescara. Il club campano che ha ufficializzato per la panchina Pippo Inzaghi prova a battere la concorrenza di Empoli e Verona. Infine, comunicate dalla Lega B le date ufficiali del prossimo campionato. Si parte sabato 24 agosto, si chiude il 14 maggio 2020. Confermato il pacchetto di gare durante le festività natalizie, quattro torni infrasettimanali. La sosta dal 30 dicembre al 17 gennaio. Come già accaduto nello scorso campionato, la Serie B giocherà a Pasquetta.